Il Pincio di Fano si sta rivelando una vera scatola del tempo. Ai piedi della statua di Cesare Ottaviano Augusto, a seguito degli scavi per la predisposizione della nuova scenografica illuminazione che sarà realizzata, sono riaffiorati i resti degli insediamenti urbani di epoca moderna che costituivano un'area urbana e commerciale. Uno, due, forse tre forni, resti di una cisterna con un pozzetto a pochi passi dal diorama. Osservarli da vicino è un'emozione unica e passeggera, sì perché presto verranno ricoperti di un tessuto non tessuto e di ghiaia. Come vedete ci troviamo nell'area del Pincio, siamo riusciti ad entrare per mostrarvi in esclusivo delle immagini che non vedremo più perché giovedì verrà ricoperta questa nuova area che è stata evidenziata dai lavori e dagli scavi, dalle archeologhe. Questa era sicuramente un'area produttiva, vedete quello che sta inquadrando in questo momento Filippo Pucci era sicuramente un forno, un forno adibito alla cottura forse di generi alimentari. Qual è il destino di questi ritrovamenti? Adesso cosa avete pensato di fare? Certamente come il resto dei rinvenimenti saranno accuratamente documentati e quindi anche fotografati, rilevati e restituiti anche in forma di conoscenza ai cittadini come il resto dei rinvenimenti. Saranno però ricoperti perché la fruizione dell'area è molto importante e i disagi dei cittadini devono essere limitati al massimo. Trovata traccia anche del camminamento sotterraneo che da una botola dei giardini consente di arrivare sino oltre via Roma. La memoria storica e la documentazione di ciò che quest'area sta restituendo, facendoci fare un vero e proprio viaggio nel tempo tra Medioevo e fine ottocento, sarà conservata e documentata. Uno scrigno dei tesori perché ogni volta che andiamo a scavare, da una parte benvenga dall'altra purtroppo, troviamo cose nuove. Sotto la statua che tutti conoscono, quella di Cesare, ovvero di Ottaviano Augusto, abbiamo trovato quel che resta di una zona residenziale produttiva, diciamo artigianale, della città che probabilmente nel 1930 è stata demolita per fare spazio ai giardini del Pincio, che attualmente conosciamo. I lavori comunque vanno avanti, la riqualificazione credo che stia venendo anche molto bene e a presto avremo questo spazio di nuovo fruibile a tutte le attività della città di Fano. Sarebbe bello che questi tesori trovassero anche una qualche collocazione in un locale, anche non poco distante dalla Porta Maggiore. Vedremo. Certo è che l'attesa e la difficoltà dei residenti ed esercizi commerciali dovuti dal cantiere, nonostante l'opera di contenimento della macchina comunale, a lavori ultimati saranno ampiamente ripagati con un colpo d'occhio unico della zona ed anche di valorizzazione complessiva di tutto ciò che si affaccia sul nuovo Pincio, esercizi commerciali ed abitazioni comprese. Grazie. Grazie.